L'uomo, l'uomo, la donna, tutti noi, l'uomo è come un soffio, come un filo d'erba. Il filosofo Pascal scriveva, non serve che l'universo intero si armi per schiacciarlo. Un vapore, una goccia d'acqua è sufficiente per ucciderlo. Siamo esseri fragili, ma sappiamo pregare. E questa è la più grande dignità, anche è la nostra fortezza. Coraggio, pregare in ogni momento, in ogni situazione, perché il Signore ci è vicino. E quando una preghiera è secondo il cuore di Gesù, ottiene miracoli.